Lo hanno arrestato prima che potesse imbracciare l'arco e lanciare le sue particolarissime frecce. Sei, a ognuna delle quali aveva attaccato con il nastro adesivo un cellulare. Claudie Sley Alves, 22 anni, ha confessato che per ognuna di quelle frecce, se la sua mira quasi infallibile non l'avesse tradito e fosse riuscito a farle entrare nelle finestre del carcere di presidente Wenceslau, nello stato brasiliano di San Paolo, avrebbe ricevuto 1200 dollari.